Il progetto è stato presentato al Comune di Raguse il progetto La Città per Tutti. L'iniziativa mira a mettere in atto una serie di interventi utili ad eliminare le barriere architettoniche presenti in città. Il progetto è molto semplice. Noi come persone disabili vogliamo essere protagonisti in città e dimostrare che possiamo anche noi dare un contributo. Abbiamo messo in moto un sistema che permette di poter realizzare degli scivoli in città con la semplice raccolta dei tappi delle bottiglie di plastica. Coinvolgendo tutta la cittadinanza, coinvolgendo esercizi commerciali, associazioni, noi siamo riusciti oggi a dare l'avvio alla realizzazione dei primi due scivoli che saranno fatti vicino all'Impes e ai Carabinieri. Questo è l'inizio di un percorso che durerà anni ma che deve portare a realizzare più di 100 scivoli. Questo è il nostro obiettivo. Io sono felice che finalmente questo progetto sta arrivando a termine. Abbiamo seguito questo progetto già dai primi giorni in cui mi sono insediato e ricordo con, non dico con piacere, però ricordo quell'incontro che ho avuto qualche mese, mi ero insediato qualche mese a servizio sociale, quell'incontro che ho avuto con il gruppo di Giovanni Brafa. Sono venuto nella mia stanza con le carrozzine e sono rimasto impressionato, devo dire, della forza, della volontà e della benegazione di questo gruppo e soprattutto della loro determinazione di portare a termine questo gruppo, questa operazione. Io vedo questa operazione come un rimprovero da parte dell'associazione, da parte loro, soprattutto di chi soffre, che da sola, con i propri mezzi, sta riuscendo a fare qualcosa che l'amministrazione dovrebbe fare per istituzione. Sappiamo benissimo che le amministrazioni purtroppo spesso sono carente, sono ritardatarie nell'esecuzione di questa operazione che è abbattimento di barriere architettoniche, quindi è qualcosa che qualunque amministrazione deve mettere nelle priorità dei propri obiettivi e quindi ritengo che questa operazione che si sta concludendo con la creazione di due scivoli nella piazza vicino all'ospedale i Carabinieri sono un risultato per loro, un monito per noi e sicuramente serviranno a queste città per far capire che tutti dobbiamo essere uguali, tutti devono avere le stesse possibilità e spesso l'amministrazione, la burocrazia impedisce che queste operazioni si facciano a tempo debito in tutte le zone della nostra città. Noi per quello che abbiamo potuto fare abbiamo approvato la delibera di giunta per dare l'autorizzazione allo svolgimento di queste due scivoli. Abbiamo sollicitato gli uffici tecnici al massimo perché purtroppo poi l'autorizzazione andava fatta dagli uffici tecnici e se qualche mese si è perso, si è perso perché purtroppo la burocrazia ha i suoi tempi e ripeto che sia da monito per noi e per tutta l'amministrazione.